Buongiorno, buongiorno Regione Nazio Vito, buongiorno a tutti quanti, l'ho detto ieri nel mio silenzio, ho detto che molti in questi giorni dopo il terremoto aprono la bocca per far entrare solo aria o le mosche per far uscire cazzate, mamma mia, ma quante trasmissioni si stanno facendo, quanto audience che creano e gli sponsor spingono affinché la gente deve guardare, vediamo chi è morto, quanti morti, tirano i bambini fuori, tutte le trasmissioni ora sono tutti professori, poi si ritorna al terremoto dell'80, tutti professori, ma poi ci ho visto che è ignorante e che ci ho visto proprio ignorante forte, ma dico io, ma Vespe del Pietro, come si chiama, Belpietro là, quell'altro presentatore di cazzate, ma non muorrono mai, ma quando finisce, quando se ne vanno, è andato a avere un terremoto purtroppo, pigliato a chi non l'aveva pigliato, beh comunque non si sa mai, l'amante di Dio è sempre la grande, e allora queste due persone a tutti coloro, anche di altre trasmissioni che ci giocano su queste cose, allora che vi posso augurare? Allo vostro, Gagliardi e Tosti, in casa vostra, la Greta, forte, ma forte la Greta, 8.5 facciamo, è tremendo e forte, è catastrofe, la Greta.